Come se tu fossi in mezzo all'oceano, vedessi intorno a te solo acqua e non sai per quanto tempo devi nuotare, ma tu rischi di andare giù perché ti annulla in tutto e vedi questa malattia che ti sta portando via tua madre. Stefania Schiaroli esprime tutto il dolore per la situazione e le numerose difficoltà che la sua famiglia sta affrontando per non lasciare sola la madre, Maida di 72 anni, malata di Alzheimer. L'anziana ha frequentato per un anno il centro Margherita in zona aeroporto a Fano fino al marzo scorso quando la struttura è stata chiusa a causa della pandemia. Poi ci sarà il crollo probabilmente, però per ora si va avanti. La cosa che voglio dire è che noi siamo fortunati perché siamo una famiglia piena d'amore, ma chi è solo non ce la può fare. Quindi sono necessarie strutture per aiutare le persone perché io in questo momento non lavorando posso aiutare la mia famiglia, ma chi è impegnato tutta la giornata e lavora non so davvero come fa. Perché comunque tu devi stare costantemente dietro a queste persone tutto il giorno e ripeto, noi abbiamo la fortuna di essere pieni d'amore, però è molto difficile perché comunque è una malattia che ti porta via tutto. La situazione è devastante, ci racconta Stefania, che insieme al padre Sergio si prende cura 24 ore su 24 di Maida. Sergio, ex segretario provinciale di Feder Consumatori e membro dell'Assemblea della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, ha sollevato anche un'altra necessità, quella di realizzare un centro residenziale per malati di Alzheimer e quindi una struttura che possa ospitare queste persone anche nelle ore notturne. Schiaroli, insieme al gruppo La Vecchia Fano, nel luglio scorso aveva organizzato un'iniziativa al Margherita dal titolo Racconti, Poesie Dialettali e Musica. A dicembre invece aveva dedicato alla struttura di eccellenza regionale due pagine dell'Isippo, un giornale a cadenza mensile che viene distribuito gratuitamente nella città di Fano. I politici e la sanità ancora non hanno capito qual è il problema vero, io mi occupo di questo da parecchi mesi attraverso interviste, se posso dirlo ho dedicato anche l'articolo dell'Isippo di dicembre proprio come regalo per questa struttura. Questa è una malattia fra le peggiori perché è difficile da curare e perché degenera, cioè la situazione sarà sempre peggiore, quindi è devastante per le famiglie. Non dimentichiamo che a Fano ci sono circa mille casi, mille casi significa anche migliaia di familiari che si dedicano a queste persone, tra l'altro significa annullarsi completamente, significa non poter partecipare più alla vita civile. Facevo tante attività, devo rinunciare un po' a tutto. È chiaro che la prima cosa è la riapertura del centro Margherita perché il centro Margherita consente a questi malati di relazionarsi e concede qualche ora di libertà, i cosiddetti caregiver che sono i familiari che se ne occupano. Ma non basta, è questo che bisogna capire, non basta, arriva il momento in cui queste persone non sono più gestibili e uno non ha interesse a lasciarle queste persone, dedica tutto a se stesso. È necessario realizzare una struttura residenziale perché, voglio dire, ripeto, arriva il punto, visto che la malattia degenera, in cui queste persone non sono più gestibili. E molti non hanno le possibilità economiche per avere badanti o per dedicare tempo oltre quello che hanno, perché, ripeto, 24 ore dedicate non bastano. Quindi una struttura residenziale è dedicata. Abbiamo il centro della fondazione dove avevo già sollevato il problema, va utilizzato tenendo presente che ci sono altre strutture per i fragili l'intorno per cui si potrebbe fare anche una cittadella delle persone fragili. Grazie a tutti.